Eccoci tutti, sono di nuovo con la nostra psicologa, sessuologa e scrittrice e youtuber Veronica Rossi. Ciao Veronica. Ciao Massimo e ciao a tutti e grazie ancora per questa chiacchierata che stiamo per fare. Veronica Rossi che ricorda anche youtuber del canale Psicologia con Ironia ed è anche scrittrice, facciamo vedere il libro perché lei si interessa anche di disturbi alimentari, quindi SOS Abbuffata, Veronica Rossi si trova su Amazon, magari ne parliamo. Oggi però il tema sarà piccante, il tema sarà piccante perché sai Veronica che si è scatenato il putifero, perché io ricordo, andate per vedere l'intervista precedente che avevamo fatto con Veronica la scorsa settimana dove così a passare è venuta fuori la tematica della durata dell'amore. Io avevo letto un libro di Paolo Coelho, ti avevo detto 11 minuti dove lì era la storia di una prostituta che diceva che 11 minuti era il tempo che aveva cronometrato, che impiegavano i suoi clienti ed erano migliaia che ne aveva, insomma. Aveva un buon campionario. Lo faceva non so con quanti al giorno per tanti anni, quindi migliaia di sicuro. E invece le donne, anche gli uomini, malgasciò, nel malgasciò dico no, io due ore, tre ore, quattro ore, tutta la notte. E allora, no, volevo chiarire un attimino un po' questo e poi so che prima mi accennavi anche nel, come dire, dietro le quinte del discorso delle culture, non so, un po' se ci vuoi approfondire un attimino tutte queste tematiche. Sì, sì. Vabbè, intanto se ti vuoi presentare, anzi, presentati così, per chi non ti conosce, tu sei di Terni, lavoro a Terni, presentati così dopo partiamo. Io sono Veronica Rossi, sono una psicologa clinica e anche sessuologa, anche scrittrice da poco. Ah, ecco, un'altra cosa, faccio anche formazione, quindi insegno psicologia, online adesso, insomma, perché viste le problematiche dell'emergenza sanitaria, però sì, mi occupo anche di questo e ho un mio studio a Terni e poi un'altra cosa che amo fare è quella di divulgare la psicologia. E lo faccio proprio attraverso il mio canale YouTube, come vi ha detto Massimo, Psicologia con ironia, quindi cerco di divulgare la psicologia con ironia, quindi in maniera non troppo tecnica e non troppo cupa, non troppo seriosa, perché la psicologia è una cosa seria ma non seriosa e quindi ecco. Ha un bel canale il tuo, c'è veramente dei video interessanti, quindi invito tutti a andarvi a seguirla e andare a iscrivervi perché è veramente un canale molto molto interessante. E poi no, hai diciamo anche il dono dell'essere chiara, per cui cosa che non è diciamo da tutti, insomma, quindi mi piace molto i miei premi, davvero. Mi fa molto piacere. E quindi veniamo un po' a questo tema, come mai secondo te c'è questa così dissonanza temporale o cognitiva sulla sessualità poi alla fine, no? Questo mito, questo mito del... intanto il mito è che più è meglio, ma è così vero che più è meglio è. Ma in realtà, allora, su questo c'è molto da dire, nel senso che partiamo dalle basi, no? Allora, l'atto sessuale fondamentalmente dovrebbe essere qualcosa di veloce, cioè in natura l'atto sessuale è veloce, pensiamo agli animali, noi fondamentalmente siamo animali evoluti. Questo però, cosa ha comportato? Il fatto dell'evoluzione, quindi il fatto che l'uomo ha creato delle culture, ha creato delle società, ha creato anche, appunto, come posso dire, una complessità nei rapporti. Questo ha determinato poi anche un evolversi del rapporto sessuale, che non è più fine alla procreazione, quindi all'evoluzione della specie, ma si sono riconosciuti anche tutti gli aspetti legati al piacere, gli aspetti ludici. E quindi se una volta un rapporto sessuale di 15-30 secondi barra un minuto era normale, oggi non lo è più, perlomeno per la nostra società, diciamo, moderna, per la nostra società occidentale. E quindi diciamo che si aprono dibattiti continui su quanto deve essere la durata dell'uomo, troppo, troppo, poco, non si sa ancora bene qual è il giusto, che poi in realtà non esiste. Diciamo che è stato constatato che il rapporto sessuale internazionale dovrebbe durare dai 7 ai 10 minuti, quindi quegli 11 a cui facevi riferimento sono anche... Pure, diciamo, anche troppi. Esatto. Diciamo che tempo fa l'uomo non aveva questa pressione nel dover durare un certo periodo di tempo, cioè non c'era questo problema, diciamo. Poi con l'evoluzione si è andata un po' a creare, questo anche perché è intervenuta la donna, poveri voi, che comunque ha cominciato ad avere necessità di un rapporto, di una certa durata, e quindi fondamentalmente si è creato il problema della durata, quando una volta non esisteva, no? E adesso se ne parla tanto, tanto che ci sono proprio dei disturbi sessuali legati all'orgasmo, legati a una durata eccessiva e quindi l'eiaculazione ritardata o una durata troppo breve come l'eiaculazione precoce. Quindi fondamentalmente altro non sono che stati creati dalla cultura, poveri voi, uomini. Veronica, secondo te, visto che apparentemente sembra che uomini e donne abbiano tempi diversi, tutto sommato, e poi magari se un uomo cerca di trattenersi così in realtà non lo fa per piacere suo, o almeno io non lo so, io ti parlo da uomo, cioè se tu cerchi di trattenerti lo fai per cercare di dare piacere a una donna, non sicuramente perché a te ti fa piacere, diciamo, cercare di prolungare o trattenerti, eccetera, questo è anche un po' fastidioso secondo me. Comunque al di là di questo, come mai secondo te la natura ha fatto così questa differenza, cioè non era più semplice creare un'assonanza siccista. In realtà, come giustamente hai detto, cioè è stato fatto tutto in funzione della donna, cioè l'uomo cerca di dare piacere alla donna e quindi nell'immaginario il dare piacere alla donna è anche durare di più, diciamolo banalmente, no? Proprio perché molto spesso la donna ha delle tempistiche un po' diverse dall'uomo. L'orgasmo della donna è un riflesso che ha bisogno di una certa stimolazione, di una certa durata, che poi varia da donna a donna, questo c'è da dire. Nell'uomo nasce un po' questa esigenza di, come posso dire, di accontentarla, comunque di farle provare piacere e nell'ideale dell'uomo fare provare piacere alla donna è anche durare. E quindi si è creato tutto questo meccanismo, diciamo, un po' complesso, un po' particolare, tale per cui si è creato fondamentalmente un disturbo, in un senso o nell'altro. Ma e quindi secondo te, giusto per capirci, questi sette minuti, nove minuti, alla donna bastano oppure mediamente, oppure sono troppo pochi o non c'entra nulla, diciamo? Ma nella teoria dovrebbero bastare, anzi, secondo gli studi, da quanto è emerso alle donne basta, nel senso può essere ideale per essere appagate, però c'è un'altra questione da dire, nel senso che in quei sette minuti la donna può essere stimolata adeguatamente, quindi anche lei raggiunge l'orgasmo, tutti contenti e a posto. Se questo non accade invece c'è un'insoddisfazione, quindi bisogna vedere se questi sette minuti collimano tra uomo e donna, quindi se c'è una corrispondenza, diciamo così, tra questi due. Ti interrompo, visto che sei comunque l'esperto in queste cose qua, per una donna, secondo te, è più, per un uomo, diciamo, io posso parlare da uomo, perché non è che ho delle statistiche di altri, può essere sicuramente il coinvolgimento importante, ma è anche un fatto anche prettamente, anche meccanico, se vogliamo. Per una donna, c'entra il meccanicismo o quanto è influente e quanto è invece l'aspettativa mentale o la psicologia, diciamo, secondo te o secondo quello che sai, insomma, i tuoi studi? Allora, questa è una bellissima domanda, nel senso che anche qui c'è tanto da dire. Allora, partiamo dal presupposto che fondamentalmente l'orgasmo è un giusto approccio, un giusto tocco al clitoride, parliamo della donna, quindi quando c'è una giusta stimolazione la donna, sulla carta, quindi potrebbe avere un orgasmo. Il problema è che poi interviene la mente, perché ci deve essere anche una predisposizione psicologica ad averla, perché molte donne, per esempio, hanno dei blocchi, paura del giudizio, hanno avuto un'educazione, in certi casi anche molto rigida su questi aspetti, a volte anche religiosa, perché poi anche questo interviene, e quindi cosa succede? Che a fronte di una buona stimolazione la mente non è sgombra e non si ottiene l'orgasmo. Lì però il problema non è la stimolazione, ma è un blocco psicologico che non permette di arrivare al piacere, a lasciarsi andare, no? Perché l'orgasmo è una totale perdita di controllo, se io ho dei blocchi psicologici non posso abbandonarmi, e questo ovviamente crea un problema. Quindi, ricapitolando, una donna che non ha blocchi psicologici, che comunque ha la mente sgombra, che ha delle fantasie anche, no? Perché quelle alimentano tantissimo, cioè possono anche accelerare l'orgasmo, con una buona stimolazione indiretta o diretta del clitore, si può avere l'orgasmo nella donna. Quindi è un connubio tra aspetto meccanico e anche aspetto psicologico che vanno di pari passo. Visto che mi hai detto una cosa qui, mi passa di mente. Se viene a te una donna e ti dice, guarda, dottoressa, io non riesco a provare piacere, tu che metodi usi per... cioè tu segui queste tematiche, giusto? Sì, sì, assolutamente. Allora, prima di tutto c'è da vedere un aspetto. Sembrerà una cosa banale, ma molte donne non conoscono il proprio corpo, cioè non conoscono soprattutto il loro apparato, quindi com'è costituito, capito? E quindi questo cosa genera poi la non conoscenza di come si può ottenere l'orgasmo. E se io per prima non so come ottenerlo, non posso neanche dire al mio partner cosa mi piace, cosa deve fare e cosa non deve fare. Quindi molto spesso la prima cosa da fare è capire se la donna ha ben chiara la situazione, cioè com'è, com'è... C'è l'importante che, diciamo, non hanno neanche, diciamo, in modo autonomo riescono a procurarsi. Assolutamente, anzi, molte donne hanno proprio il blocco della masturbazione, cioè è una cosa che non va fatta. E mi è capitato anche di avere a che fare con alcune donne adulte, quindi grandi, con una certa esperienza, che non si erano mai approcciate all'autorotismo, alla masturbazione. Ah, a potenza. E questo ovviamente è un grosso problema, perché non ci si conosce. Attraverso invece la masturbazione e l'autorotismo ci si può conoscere, capire cosa mi piace, cosa non mi piace, che tipo di stimolazione utilizzare, ok. Comunque ti ho accorto questa, tanto per dire, soltanto interrompo che mi vengono in mente. No, mi piacciono le storie. Anche per i maschi, no? Adesso, vabbè, io sono molto più grande di te, quindi ai tempi, circa 12 anni, 13 anni, andavo a confessarmi, no, per fare la comunione, poi, meno male che ho cambiato linea, comunque. Comunque, c'era il prete che una volta mi chiese, sei 12 anni, gli ormoni che andavano, no? Mi chiese, ma ti tocchi? Così, no? Io gli ho detto, eh, sì, tre volte al giorno, più o meno, così. E questo qui mi ha detto, guarda, diventerai cieco tu, morirà tua mamma, morirà tuo papà, e infatti vedi che porto gli occhiali, e poi quando andavo in bagno, dopo cuscivo, controllavo i genitori, chiedevo, ma state bene, sto a posto. Ma lo sai, mi passi un assist bellissimo, nel senso che poco tempo fa ho fatto un video proprio sulla sessualità e tabù, e ho proprio detto questa cosa, ho detto, pensate a quei maschietti che fin da piccoli si sentono dire, ah, se ti masturbi diventi cieco. Cioè, con questa prospettiva, come ti puoi approcciare all'autorotismo o alla sessualità? Cioè, sembra... Mori a tuo papà, mori a tua mamma, mori vicino a casa, cioè... Cioè, capito? Che ansia, che paura! Sì. E queste cose, poi, rimangono nella mente di una persona, cioè, rimangono lì, come anche quando, per esempio, i genitori da piccoli, ah, non ti toccare la farfallina, non ti toccare lì, copriti, come se fosse qualcosa di sbagliato, come se la sessualità, l'autorotismo, non mostrarsi, fosse qualcosa di sbagliato da non fare. E quindi, cosa succede? Nel bambino, che poi sarà l'adulto di domani, si innescano delle domande e una sorta di difficoltà a capire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Nel senso, io ho un istinto a fare una cosa, ma mi si dice che questa cosa non è giusta. E quindi, cosa faccio? Lo faccio senza dirlo? Lo faccio e poi mi pento? E quindi si innescano tutte delle problematiche che poi ci si possono portare anche fino all'età adulta. E il pensi di colpa, no? Anche nelle donne. Esatto. Esatto. Ecco perché in molti casi, per questo dico, bisogna capire se la donna ha ben chiara com'è la sua conformazione, prima di tutto. Perché a volte arrivano che impaurite, perché oddio che cos'ho, che non va, c'è qualcosa di sbagliato in me. Fanno tutti i controlli a livello fisico, insomma, per vedere la situazione organica, è tutto a posto. E a volte banalmente non sanno come arrivare al piacere. E quindi non sanno neanche dirlo al partner. E fondamentalmente a volte è solo quello. Altre volte, invece, la difficoltà di raggiungere l'orgasmo è proprio data dal partner. O meglio, dalle dinamiche che si creano. Nel senso, se io non ho un buon feeling, non ho una buona comunicazione, se con questa persona ci litigo spesso, provo del rancore, non riuscirò a lasciarmi andare, quindi non riuscirò neanche a provare piacere. Quindi bisogna anche vedere poi nella coppia cosa si crea, che dinamiche ci sono. Perché a volte sono proprio questa la causa del mancato raggiungimento dell'orgasmo. O anche della difficoltà ad avere un'erezione nell'uomo e ad avere una mancanza di desiderio nella donna, per esempio. Anche perché c'è da dire una cosa. Io non mi ricordo, non so chi ha detto questa frase, ma ce l'ho in testa, che il partner è qualcosa che serve a un atto che fondamentalmente è autoerotico. cioè la sessualità la si fa per... il sesso lo si fa per se stessi. Eh sì, 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 sì. E il partner serve a raggiungere un proprio piacere. Beh, nel buddismo l'orgasmo lo chiamano la piccola morte, proprio perché uno è completamente isolato dall'altro, cioè alla fine è un momento in cui si vive un profondo momento di egoistico, se vogliamo. Che poi è egoistico da entrambe le parti, perché un partner cerca proprio il piacere e l'altro uguale. E poi cosa succede? Che molto spesso però il piacere dell'uno è vedere il piacere nell'altro. Questo è un piacere narcisistico, però secondo me, cioè perché il mio godimento può essere nella potenza di dare piacere a un'altra persona. Esatto. Non so se quanto è per atto narcisistico, per vero altruismo, questo non lo saprei. Esatto, è qualcosa che si fa tutto fondamentalmente per se stessi, no? Perché... Maschio ha l'orgoglio di maschio, no? Se non viene... Certo, di capacità di dare piacere alla donna, cioè la donna prova piacere grazie a me. E quindi è vero, si crea questa dinamica complessa di ragionamenti. Eh sì, sì, è un mondo... Senti, visto che siamo... Quindi tu che alla fine... Qual è il tipo di terapia, diciamo, che porti avanti con una donna? Poi vediamo col maschietto. Allora, con le donne... Ma poi diciamo che sono molto simili, nel senso che prima di tutto occorre... Nel caso non ci fosse, occorre fare una vera e propria educazione sessuale, nel senso far capire alla donna come poter ottenere piacere e farle conoscere il suo corpo. Quindi anche osservandosi allo specchio, per esempio, autoosservandosi, toccandosi, anche solamente per andare alla scoperta dell'anatomia, no? Non necessariamente per la ricerca del piacere. E poi, nel caso ci fossero delle barriere psicologiche, bisogna lavorare molto su quello, perché se quelle permangono, la difficoltà nell'avere l'orgasmo continua ad esserci. Quindi bisogna lavorare molto su quello. Con la coppia, invece, nel caso il problema sia una questione legata alla dinamica che si crea in coppia o a una difficoltà, no? Nel capirsi cosa fare, cosa non fare, cosa mi piace, cosa non mi piace, ci sono diverse mansioni che si chiamano così. Ci sono una sorta di compiti a casa che si dà alla coppia e che devono fare con una certa frequenza tra una seduta e l'altra. Per esempio, adesso ne dico qualcuno, perché stiamo a elencarli tutti. Sì, no, ma giusto come principio, diciamo, non è che dobbiamo... Per esempio, c'è la manovra di ponte, dove si istruisce la coppia ad avere un rapporto stimolando la donna con la mano nella zona clitoridea, quindi nella parte del clitoride o comunque, sì, stimolando il clitoride per avere una penetrazione e una stimolazione diretta del clitoride. E questa è la manovra di ponte. Dopodiché c'è... A ponte è chiesto, ponte è una persona o un... Perché ponte? No, in realtà si chiama così per, come posso dire, per quello che si viene a creare, no? Perché c'è una sorta di collegamento proprio per una questione, diciamo, di posizione che si viene a creare. Ok, ok. Vabbè. E poi abbiamo anche gli esercizi di Kegel, per esempio, che sono quelli di... Contrazioni, giusto? Esattamente, sì, anche questi qui. E poi altre manzioni che la coppia può fare, per esempio, delle stimolazioni, stimolandosi, senza però avere un rapporto sessuale, quindi attivare anche tutti i sensi, l'olfatto, il tatto, il gusto. Quindi la coppia che si deve ritagliare questi 10, 20, 30 minuti dove comunque ha questa esplosione sensoriale, dove imparano a toccarsi, a raggiungere un piacere senza avere la... senza l'atto sessuale. E dopodiché, invece, si aggiunge un altro pezzettino, ovvero fase della stimolazione sensoriale, eccetera, eccetera, e poi l'atto sessuale. A proposito, se ti interrompo, scusate, di stimolazione sensoriale, no? È vero o è un mito che l'uomo, diciamo, è stimolato più visivamente, cioè inizialmente cioè guardare, guardando, e la donna, invece, ha stimolazioni più, come possiamo dire, uditive. È verissimo. bisogna qualcuno che li parli, che li dica. Infatti, te ne dico un'altra, che si dice che i film porno sono stati creati per gli uomini che potessero vedere e poi è stato aggiunto l'audio per le donne. Perché l'uomo ha questa predilezione per l'aspetto visivo, quindi ha bisogno di vedere, ok? E la fantasia viene alimentata molto dalla visione. La donna, la donna, invece, ha bisogno di sentire. Infatti, alla donna piace sentire anche il piacere nell'uomo, cioè, proprio a livello verbale, sentire l'uomo che comunque durante l'atto le esterne al suo piacere, i gemiti e una serie di cose. Infatti, molto spesso sono proprio le donne che durante l'atto sessuale hanno anche questi gemiti, questo modo di esternare il piacere attraverso la voce a livello vocale, proprio perché sanno che a loro il piacere arriva dall'ascoltare e quindi si crea questo meccanismo. Quindi, più uditive le donne, diciamo, indipendentemente da poi hanno proprio questa necessità, diciamo, e anche questo credo che possa essere un qualcosa che si può, diciamo, magari molti uomini non se ne rendono neanche conto di questo, cioè, magari basta una parolina detta o un qualcosa detto in quel momento può facilitare, no, anche il piacere per la donna o no? Assolutamente, sì, 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 cioè, l'aspetto uditivo per la donna è molto importante. Ti dico anche un'altra cosa, sempre sull'aspetto uditivo, il linguaggio, eccetera, che gli uomini e le donne hanno generalmente fantasie sessuali un po' diverse, però quello che li accomuna nelle fantasie è proprio il dirty talk, cioè, ovvero, sì, sì, le parolacce, che è stranissimo, qualcosa che accomuna uomini e donne deve essere proprio eclatante e invece c'è questo aspetto nel senso che ovviamente anche qui è una cosa statistica, non a tutti piace, perché per esempio so di molte donne che non le, non amano sentirsi chiamare con alcuni nomi o sentire le parolacce durante l'atto sessuale, però, però ecco, questa è una fantasia per esempio che accomuna sia gli uomini che le donne, questo va a confermare il fatto che le donne sono molto uditive, cioè la fantasia è molto determinata da quello che sentono attraverso l'orecchio, l'uomo invece ha bisogno di vedere, ha bisogno di vedere e ecco perché appunto come ti avevo detto si dice che il film porn è stato creato per l'uomo con le immagini e poi è stato aggiunto l'audio per il piacere delle donne. E senti, visto che parliamo di queste cose qua, tu hai idea del perché diciamo i vari feticismi che ci sono sono un fenomeno prevalentemente maschile? Io non so se magari ci sarà qualche donna che magari mi risulta che sia un qualcosa di poco diciamo marginale o sbaglio? Sì è vero, sono effettivamente più gli uomini che hanno questo tipo che si riscontra il feticismo. Cioè credo molto di più no? Sì 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 molto di più negli uomini. Poi c'è anche un'altra cosa da dire che molto spesso l'uomo si sente più libero nell'esternare le proprie fantasie le trasgressioni. La donna ha sempre subisce un po' il retaggio culturale della paura del giudizio e quindi è sempre un po' più trattenuta rispetto all'uomo e anche qui è fatica quindi capire il dato sommerso fondamentalmente delle donne però è vero che sono fondamentalmente più gli uomini ad avere questi aspetti feticisti soprattutto. Quindi nel 2021 c'è ancora comunque una diciamo ci sono ancora delle preclusioni da questo punto di vista cioè per la donna comunque il giudizio viene ancora sì 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 purtroppo dico purtroppo perché questo poi va a determinare anche delle problematiche all'interno della coppia e nel benessere stesso della donna perché è una donna che non si sente libera di vivere la propria sessualità di vivere le proprie fantasie le proprie trasgressioni ovviamente avrà un po' di frustrazione nelle relazioni e nell'aspetto sessuale che invece dovrebbe la sessualità dovrebbe essere vissuta nella totale libertà e serenità e invece avere queste paure ma soprattutto la paura del giudizio è qualcosa che lega molto e non lascia non permette di sentirsi liberi e questo accade anche nei confronti dei partner anche con partner di lunga data non ci si sente liberi nel dire quello che piace nel dire quelle che sono le proprie fantasie nel dire anche al partner della necessità di trasgredire ecco questo è un grosso problema perché poi a volte si dice ah sì la sessualità è diventata monotona è sempre la stessa cosa lo facciamo sempre così sempre cos'ha sempre lì quando fondamentalmente poi andando a prendere i partner singolarmente vedi che hanno fantasie potrebbero scrivere libri erotici ma non se le dicono e quindi ovviamente continuano a fare quello che è considerato accettato dalla cultura no? che è il sesso classico secondo la cultura ma secondo te la convivente cioè il vivere sotto il suo tetto aiuta queste fantasie o le uccide del tutto? questo dipende molto da come la coppia si approccia alla sessualità quindi da quanto peso e importanza dà alla sessualità per esempio ci sono coppie di scambisti che convivono e sono tra loro fortemente legati sia da un punto di vista sentimentale che sessuale che uno potrebbe dire trovano piacere interagendo con altre persone facendo sesso con altre persone come è possibile in realtà è così perché sono coppie profondamente libere nell'esprimersi e nel vivere qualcosa consensualmente e questo le va a rafforzare sia da un punto di vista sentimentale sia da un punto di vista della sessuale della loro vita sessuale e poi ovviamente ci sono coppie che invece una volta arrivate alla convivenza arrivati al matrimonio una volta arrivati i figli lasciano da parte la sessualità la considerano qualcosa in più e allora diventa monotono o addirittura assente in alcuni casi ma tu quindi come vedi questo parlato di scambismo prima come la vedi come pratica utile alla coppia oppure diciamo poi un'altra cosa è facile che magari uno voglia farlo e l'altro magari lo fa proprio per far piacere all'altro ma in realtà non lo sente come mi piacciono queste due domande allora nel senso io lo scambismo lo vedo una cosa positiva per il rapporto se entrambi i partner lo desiderano quindi quando diviene una fantasia una trasgressione condivisa fa solo che bene nel senso che si crea molta coesione perché sono due partner due persone che si sentono unite nella vita e anche nella sessualità quindi si crea veramente una dinamica di legame molto forte su tutti gli aspetti viceversa invece accade quando c'è uno dei due che non desidera diciamo mettersi in queste pratiche e quindi lì dopo sorgono dei problemi perché abbiamo partner con fantasie completamente diverse quindi a fronte di un desiderio dell'uno non c'è il desiderio dell'altro è più un desiderio maschile o femminile questo? Eh questo in realtà è un 50 e 50 sì nel senso e poi ritorniamo sempre allo stesso problema che molto spesso le donne non lo dicono preferiscono magari che sia il partner a proporlo e poi accettano piuttosto che esporsi per prime però è qualcosa che è 50 e 50 e poi anche qui dipende molto dalla cultura perché ci sono culture dove sono molto aperte a questo tipo di trasgressioni di fantasie ed altre un po' meno in alcuni stati addirittura ci sono proprio dei locali dei luoghi dove si può praticare scambismo in totale tranquillità e serenità in altri invece è un po' più in Italia credo ci sia sì 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 esatto in Italia anche ci sono quindi direi che a parte che io credo che negli ultimi anni negli ultimi periodi sia qualcosa che si stia via via normalizzando se anni fa era una cosa vista come strana particolare una trasgressione per dire qualcosa che non si fa adesso sta diventando sempre più normalizzata questo perché più persone lo fanno più persone aderiscono a una determinata pratica e più diventa normale diciamo quindi culturalmente accettato inizialmente il diverso quello che si discosta dalla da ciò che è tipico fa sempre un po' paura e poi via via diventa sempre più ben vista mi ha sorpreso un po' da questo punto di vista che spesso si diciamo sdogana al tradimento cioè viene visto vabbè lui c'è l'amante sì vabbè è normale l'amante così viene sdoganato dall'immaginario collettivo mentre invece la consapevolezza nel farlo diciamo sapere lo scambismo consapevole viene visto come trasgressivo questo mi sono sempre chiesto però in effetti questo vuol dire tradimento non c'è nello scambismo perché tradimento tu non tradisci cioè l'altro è consapevole invece se hai l'amante di nascosto o vai con la escort sotto casa diciamo è comunque un tradimento perché tieni invece questo viene comunque sdoganato cioè l'altro invece viene visto come una roba malata diciamo sì sì è vero infatti c'è questa così come dire due pesi due misure nel senso come infatti dicevi tu nello scambismo fondamentalmente c'è una consensualità quindi non c'è un tradimento è il ragionimento di un piacere in una maniera diversa da quello che è considerato tipico e non dico normale ma tipico perché cosa è normale cosa no non esiste infatti è molto strano questo che in un certo senso venga meglio accettato un tradimento che una pratica sessuale atipica diciamo ma in cui i partner sono assolutamente consententi e questo effettivamente lo trovo molto strano ma si ricollega un po' a quello che dicevamo prima relativo ai tabù relativo a dei rettaggi culturali le influenze religiose perché poi la religione su questo c'entra proprio molto perché ovviamente per la religione l'essere umano deve essere monogamo deve fare sesso per procreare e non si dà spazio invece agli altri aspetti della sessualità che sono gli aspetti ludici gli aspetti di piacere gli aspetti anche legati all'immaginazione alla fantasia cioè noi da bambini usiamo tantissimo la fantasia e questa viene poi man mano persa è l'unico diciamo l'unico ambito in cui possiamo ritirare fuori dal cassetto la fantasia di quando eravamo bambini è proprio la sessualità è bellissimo questo e non vedo perché dovrebbe essere un problema farlo sì sì infatti certo poi questione e mi dicevi nel diciamo tornando alla durata che ci sono alcune culture dove addirittura i tempi sono ancora più ridotti sì sì assolutamente sì ecco per esempio le culture in Africa per esempio dove diciamo diciamo così parole povere la donna è meno considerata quindi l'uomo fa sesso per il proprio piacere e di quello che pensa la donna non gli interessa quei 15 30 secondi di durata sono più che 30 secondi sì sì in alcuni un mito dell'africano che no l'africano che viene qua nel mondo occidentale si deve adeguare quindi magari si crea il mito però fondamentalmente nelle culture africane cioè ci si accontenta diciamo così e così anche per in Malesia per esempio in altri in altri posti dove è normale che sia così cioè per loro quella è la normalità fanno poco caso a quello che pensa la donna o al piacere della donna per loro non è importante la durata perché non è quello che determina la potenza maschile anzi la potenza maschile è data da questa esplosione orgasmica nel breve tempo ah già giusto perché è un po' esatto esatto quindi questa visione è diversa quindi ecco perché nella sessualità non c'è fondamentalmente oggettività la sessualità più che un fatto naturale è un fatto culturale ecco ecco perché a volte si creano dei disturbi che sono disturbi o è la cultura che ha creato questi disturbi punto di domanda perché sì senti rimanendo su temi più o meno diciamo analoghi il mito Rocco Rocco il nostro grande il nostro grande Rocco ma diciamo è un come dire dal tuo osservatorio per le donne diciamo è un come dire incontrare Rocco è un piacere e per gli uomini non essere come Rocco è una disgrazia com'è sta faccenda qui mi stai dando delle domande stasera mi diverto allora partiamo da subito molto veloci nel dire che le dimensioni non contano è questo vedete malgacione non contano non contano l'importante è che facciano 7 centimetri per arrivare a ma sì ma anche meno perché se tornando al discorso che l'orgasmo è determinato dalla stimolazione del clitoride potrebbero bastare anche meno fondamentalmente no comunque adesso questo poi poi c'è anche da dire che ogni donna ha una conformazione diversa quindi quello che può andare bene a una magari non va bene all'altra ma qua dice appunto che c'è la donna cerbiatta la donna giumenta e la donna elefante e in corrispondenza c'è l'uomo lepre che dovrebbe accoppiarsi con la donna cerbiatta l'uomo l'uomo torro che dovrebbe accoppiarsi con la donna giumenta e l'uomo cavallo che dovrebbe accoppiarsi con la donna elefante perché il cavallo dà questi tre accoppiamenti perché ovviamente se l'uomo cavallo diciamo che è il rocco della situazione incontra la donna cerbiatta fa male insomma mentre invece se l'uomo come si dice lepre incontra la donna elefante che se deve avere una voragine non so qualcosa si disperde lì si perde questa ammetto di dire che non la sapevo non era conoscente Kama in sanscrito significa amore fisico sutra filosofia quindi Kama Sutra è la filosofia dell'amore fisico diciamo lei è un libricino comunque no ma in realtà poi l'avevo letto tanto tempo fa però evidente questo non mi era rimasto impresso comunque tornando al discorso di prima le dimensioni non contano e questo l'abbiamo detto perché poi quello che conta è scusate se sono così diretta ma saperlo usare bene cioè conta quello che ci fai no perché puoi essere rocco ma non non sapere minimamente come procurare piacere alla donna e quindi anche diciamo così a parità di utilizzo cioè diciamo prendiamo due che sanno usare utilizzarlo diciamo lo strumento in modo analogo come giusto per capire no perché una variabile dobbiamo mettere le variabili possono essere infinite mettiamo due uguali nell'utilizzo ma con uno rocco e uno un po' meno rocco questo tornando sempre ai discorsi di prima dipende anche dalla conformazione della donna perché molto spesso alcune si lamentano che dimensioni eccessive danno fastidio cioè procurano fastidio comunque fastidio esatto e non piacere e questo varia molto nel senso che parliamo di diversi centimetri è molto è molto soggettivo dipende tantissimo dalla donna infatti su questo non c'è un accordo diciamo se sulla durata un po' sì su questo un po' di meno nel senso c'è chi dice 10 chi 12 è difficile tutto dipende dalla donna perché la donna a differenza dell'uomo che invece è un po' più standard diciamo nell'aspetto anatomico la donna è molto più complessa e c'è un'estrema diversità e quindi molto dipende da lì poi c'è anche da dire un'altra cosa che il fenomeno Rocco poi è determinato è stato determinato dal porno che il porno è una esaltazione della realtà o meglio è una è una non realtà fondamentalmente quindi cosa crea crea in tutte e due in entrambi uomo e donna crea una forte ansia da prestazione perché quella lì diventa lo standard da cui rifarsi no e quindi sia nell'uomo che nella donna si crea una forte ansia da prestazione perché come posso raggiungere quei livelli modelli diciamo che c'è le ragazze che vedono le modelle in passerella esatto che non potrebbero essere come loro e quindi si sentono brutte esatto poi adesso per esempio nelle donne si crea una forte ansia da prestazione per esempio sullo squirting che adesso va molto nella nella pornografia questo fenomeno e alcune donne si sentono in difetto se non riescono ad avere questo questo squirting quando in realtà non è nella normalità cioè anzi non è cioè lo squirting il liquido che viene prodotto è qualcosa che anticipa l'urina quindi esatto non è qualcosa che serve serve invece avere ovviamente il piacere con l'eaculazione femminile quando invece quella non lo è non c'entra nulla però molto spesso le donne si sentono in dovere di accontentare il proprio uomo perché ha visto nel film che quella lo faceva e gli ha provocato questa questo piacere quando in realtà non tutte le donne possono farlo e non sempre perché dipende da tanti fattori sia psicologici ma anche fisiologici sì e non credo che a molti uomini faccia poi piacere a tutti faccia piacere insomma no esatto che esce fuori soprattutto chissà che cos'è non tutti stanno disputando mest però vabbè non le sue cose ma non è detto che sia ma senti invece secondo te parlavi di questa diffusione diciamo di immagini di rapporti eccetera non non rendono anche questo l'uomo magari soprattutto l'uomo che è visivo meno sensibile poi c'è più diventa più refrattario nel senso che se sei sovrisposto immagini poi cioè voglio dire non ti fa più effetto niente no perché comunque hai un bombardamento tale per cui il mistero finisce non so negli anni 50 vedevi il ginocchio di una donna era già esatto era già qualcosa di cioè oggi è tutto diciamo sovra come stimolato o no davvero questo è verissimo nel senso che si è un po' alzata la sticella come si dice no quello che una volta era considerato il culmine del del piacere ora diventa la normalità e questo è un problema soprattutto per i giovani perché entrano in un mondo dove sono sovrastimolati sovraesposti esposti anche come dicevo prima alla pornografia che quindi diventa per loro educazione sessuale quando invece quella fondamentalmente è arte e quindi è qualcosa che non c'entra nulla con la realtà e quindi entra in atto il pensiero di dire se io devo raggiungere quel livello per provare piacere perché ormai sono abituato a quello sono abituato a vedere quello e se non se non ho quel tipo di attività quel tipo di stimolazione lì non riesco a diventa una cosa che non è più sostenibile perché come dire diventa solo stimoli 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 poi riesci più a gestire credo queste cose assolutamente vero anche perché poi il piacere a un certo punto si ottiene solo con determinate pratiche con determinate situazioni e diventa tutto molto più complesso anche per la persona tant'è vero che ci sono persone che si rivolgono proprio al sessuologo perché riescono ad avere un orgasmo solamente in quella condizione solamente facendo quella determinata cosa e dopo lì diventa davvero difficile perché il normale atto sessuale una stimolazione tipica non basta più e non sempre si trovano partner che in un certo senso collimano con quel tipo di fantasie o con quel tipo di trasgressioni e dopo lì diventa molto complesso senti parlando di visto che siamo su tematiche di questo genere la sessuologia o la psicologia in generale come vede in forma patologica oppure attività un po' estreme come il bondage oppure ball busting queste pratiche diciamo anche dolorose proprio fisicamente in cui una persona diciamo prova piacere però associato al dolore fisico che gli viene prodotto cioè va a ricercarsi per il dolore vengono viste in forma patologica oppure diciamo tutto quello che viene praticato tra adulti e consenzienti è lecito e non è patologico come reale la posizione della psicologia ufficiale tu hai detto due paroline magiche nel senso adulti e consententi perché questi sono due criteri fondamentali nel valutare cos'è patologia e cosa no la psicologia su questo ha una visione molto aperta nel senso che non dice quello è patologico e quello no il tutto dipende dalla persona cioè se sente che quella pratica lì è diventata per lui patologia ovvero che per lui è diventata problematica che gli crea poi delle problematiche nella vita di tutti i giorni allora a quel punto diventa patologia e scusate se ti interrompo cioè se non altro trovare cioè diventa molto più restrittiva la soluzione trovare una persona perché cioè trovare una che non so che ti piglia calci lì in sole o che o che faccia delle cose così magari o che si faccia le gare per dire cioè ti restringi molto diventa un qualcosa di nicchia poi alla fine assolutamente sì perché c'è da dire che quello che può piacere a un partner non è detto che piaccia alla o all'altro partner cioè è difficile molto spesso trovare persone che abbiano questo tipo di che ottengano piacere sessuale con certe pratiche soprattutto quando sono pratiche un po' particolari perché il bondage il masochismo il sadomasochismo cioè qualcosa di particolare nel senso devi sentire di essere portato per farlo altrimenti non è fonte di piacere e se anche il partner chiede di di farlo se per l'altro l'altra o l'altro partner non è fonte di piacere non lo farà mai o lo farà cercando di accontentarlo ma a quel punto non c'è più una sintonia e quindi diciamo che la psicologia su questo dice che sì ci sono delle parafilie ci sono delle trasgressioni che diciamo vanno al di fuori della tipicità però ecco diventano patologia nel momento in cui è la persona stessa che lo sente come patologico diciamo che sente patologico ma ha un impulso che lo spinge a farlo in questo senso esatto io non vorrei mangiare ma mi sveglio di notte e svuoto il frigorifero sì perché queste persone sentono questo impulso ad ottenere piacere attraverso una determinata pratica perché poi noi conosciamo l'IBDSM conosciamo diciamo quelle più famose ma in realtà ce ne sono tantissime cioè c'è chi tiene c'è chi ha piacere dal frotterismo per esempio dallo sfregamento su estranei cioè dallo sfregarsi su estranei e dopo quel ruolo estraneo è difficile che sia consenziente esatto quindi a quel punto diventa patologico e diventa anche fuori legge quindi la persona chiede anche aiuto perché il suo desiderio non è neanche sostenibile da un punto di vista legale diciamo quindi ci sono tanti aspetti da valutare poi per esempio ci sono parafilie ce ne sono un'infinità adesso certo sì sì era dire tutto quello che diciamo viene vissuto da persone adulte consenzienti mi interessa capire anche se estreme come la psicologia le giudicasse insomma sì ecco sì diciamo che l'importante criteri sono che i paletti di persone adulte consentienti sì esatto questi sono i criteri fondamentali persone adulte consentienti umani perché ci sono anche persone che raggiungono l'orgasmo o provano piacere attraverso atti sessuali con animali sì la zoofilia per esempio è una forma di violenza fondamentalmente esatto e quindi anche lì c'è una richiesta sembra veramente assurdo questo cioè della pecora famosa che diceva sì sì eppure esiste e poi un altro criterio da valutare è il fatto che la persona sia come posso dire integra cioè che non abbia mutilazioni per esempio non gli manchi un braccio o una gamba perché ci sono persone che sono attirate e provano piacere solo dall'avere come posso dire sì dall'avere una sessualità con persone meno mate e raggiungono il piacere solo attraverso questo tipo di contatto altre addirittura la necrofilia cioè quindi c'è veramente un mondo dietro a tutto questo e diciamo che non c'è una dicotomia un bianco un nero ma ci sono tante sfumature infatti la psicologia valuta di caso in caso cos'è patologia cosa no se con queste dinamiche diciamo che poi tutto sommato alla fine vanno proprio contro anche se vogliamo la riproduzione della specie perché gli animali non sono diciamo non c'è possibilità di riproduzione c'è comunque un blocco genetico nella riproduzione i morti pure diciamo persone che comunque hanno gravi deficit o meno mazioni diciamo che tutto sommato non andrebbero andrebbero a favore di una genetica diciamo come dire forte esatto come si spiegano queste nascite si sa ci sono degli studi allora su questo ci sono molte teorie e molte idee diciamo nel senso che molte persone che hanno questi aspetti della sessualità un po' alterati diciamo così hanno anche dei disturbi di personalità quindi molto spesso ci sono di pari passo disturbi di personalità che poi hanno anche dei risvolti sull'aspetto sessuale quindi nella sessualità altre volte diciamo di un macro disturbo diciamo presente nella persona sì c'è proprio un disturbo alla base come quello della personalità di qualsiasi tipo che può poi riversarsi o comunque avere una sintomatologia chiamiamola così proprio nella sessualità e quindi a volte è dal comportamento sessuale che si arriva a capire poi il disturbo di personalità della sessualità altre volte invece ci sono state delle esperienze nel corso della vita di queste persone che hanno deviato la loro sessualità alcune anche per esempio abusi abusi sessuali o l'aver avuto dei traumi il fatto per esempio di non essere stati accuditi dai genitori parliamo di insomma una negligenza molto forte di accudimento e tutto questo poi può innescare appunto una sorta di impalcatura di personalità o comunque di comportamento della persona che si riversa poi anche nella sessualità perché la sessualità è un aspetto del comportamento umano cioè come il mangiare il bere il dormire cioè è un aspetto che fa parte dell'essere umano in effetti a pensarci bene anche uno che si mangia sette barattoli di nutella non è che sia esatto diciamo esatto vorrebbe al miglioramento della persona esatto è la stessa identica cosa quindi come alcuni eventi possono creare dei disturbi alimentari possono creare anche dei disturbi sessuali delle disfunzioni sessuali poi è anche vero che in altri casi c'è proprio alla base un problema che è il disturbo di personalità e quello c'è fin dalla nascita che va poi anche a riversarsi nel comportamento sessuale diciamo che ti vorrei prenotare per un'altra intervista un'altra tematica che secondo me potrebbe essere interessante che io tratto ogni tanto il mio canale molto volentieri ho grandi differenze d'età nella coppia tipo malgascione toyboy oppure cioè qualcosa come viene visto che ne dici molto volentieri poi anche su questo ci sarebbe tanto da dire quindi andata è interessante anche come tematica questa delle poi anche qui ci sono molti aspetti culturali tornando sempre al nostro discorso di prima anche un po' di come si è poi evoluto di come si è sì di come si è evoluto il ruolo della donna all'interno della società rispetto all'uomo quindi ci sono tante cose da tenere in considerazione sì senti visto che siamo un'oretta ti volevo fare ancora l'ultima domanda che consiglio daresti tu diciamo così al pubblico alle persone per diciamo creare una maggiore sintonia proprio dal punto di vista intimo diciamo così nella coppia allora per creare una buona sintonia sia da un punto di vista diciamo sentimentale che sessuale sicuramente ci vuole tanta comunicazione bisogna anche attuare dei comportamenti seduttivi sia l'uomo verso la donna che la donna verso l'uomo quindi dimostrare dimostrare anche di aver voglia dell'altro perché noi abbiamo abbiamo bisogno di desiderare ma anche di essere desiderati quindi percepire il desiderio dell'altro aiuta poi a scatenare la passione questo questo credo che sarà da approfondire perché il desiderio credo che sia un qualcosa di fondamentale saperlo gestire il desiderio a parte che è una tematica a me cara quindi se vogliamo fare anche un'altra diretta su questo va benissimo perché sul desiderio c'è tanto da dire nel senso che è qualcosa che nasce da una mancanza fondamentalmente anche la parola desiderio mancanza di stelle e quindi è qualcosa la canne che ha studiato molto bene il desiderio esatto e il desiderio è quello che tiene incollati i partner cioè è quello che è quello che alimenta la coppia la passione cioè quando viene a mancare il desiderio la coppia può andare in crisi però il desiderio lo alimenti vincolando il possesso sì il desiderio si può alimentare in tanti modi con alcune persone anche per esempio mettendo un pizzico di gelosia nel partner questo può essere un po' d'aiuto ad aumentare il desiderio oppure con alcuni con alcuni partner mostrarsi sì mostrare il proprio desiderio innesca nell'altro il desiderio insomma ci sono tanti tanti diversi modi c'è già due interviste che abbiamo già prenotate e ci sono tanti diversi modi poi ovviamente per quanto riguarda la sessualità è quello che dico è di dire all'altro quello che piace quello che si vuole fare a letto e non insomma quello che si vuole fare nella sessualità e sentirsi liberi sia di dire ma anche di mettere in pratica le proprie fantasie le proprie trasgressioni chiamiamole così perché questo alimenta sia il sentimento che proprio la passione cioè questo quando c'è questa sintonia e poi le cose vanno bene sia dal punto di vista di coppia che dal punto di vista di sessualità perché sono strettamente legate tra loro perché ad esempio secondo te proprio una risposta sì no poi approfondiamo in un giornale cinque minuti quando finisce il sentimento nasce il risentimento cioè il risentimento è un sentimento mescolato bella questa domanda sì sì può essere poi dipende dal motivo per cui nasce il risentimento però sì metti in altri termini due coppie uno ama l'altro e viene lasciato nel momento in cui è maggiormente innamorato e faccia questa energia con la pentola che bolle non potendo più essere sentimento perché l'altro ti nega diventare il sentimento cioè tu scarichi sì sì perché noi abbiamo due fonti di energia eros e thanatos quindi l'amore è eros diventa thanatos esatto quindi e poi anche nell'atto sessuale c'è sempre un pittico di rabbia no diciamo così sempre due che serve c'è sempre due esatto e quindi queste due dimensioni emergono emergono nella coppia e anche nella sessualità quindi sì dal sentimento si può tradurre il sentimento bene bene quindi a questo punto mi sa che la settimana prossima dobbiamo fare un'altra diretta vai ci sto un'altra diretta intanto ricordo Veronica Rossi quindi andate iscrivervi al suo canale che è un canale spettacolare è psicologia con ironia lei è psicologa sessuologa e scrittrice perché ha scritto questo libro che si trovate su Amazon che è disturbi alimentari SOS abbuffata e quindi grazie Veronica e ti ringrazio il prossimo giro il prossimo giro adesso dobbiamo ci sono queste due tematiche da desiderio e anche l'altra tematica da differenza di età differenza di età sì sì margassone toy boy vediamo un attimino poi vediamo quale fare prima l'una o dopo ciao Massimo ciao a tutti grazie ciao